Bene ragazzi, ma io dico qualcuno se lo ricorda il buon Serafino Massoni di Youtube, perché lui parlò in maniera approfondita, penso che i video siano ancora online, di matriarcato e patriarcato. Prima del patriarcato non c'era ancora la civiltà, c'erano caverne, cacciatori, raccoglitori, quindi tirare in ballo questo termine significherebbe ignorantemente, perché non penso che partecipanti al dibattito non tutti parlino con queste consapevolezze che, ripeto, sono storiche, sono archeologiche, Quindi, cioè non si tratta di non essere d'accordo o di, come al solito, strumentalizzare o giustificare degli omicidi minimamente. Io dico che le rivoluzioni di piazza, come il 68 insegna, hanno solo prodotto casini e che invece gli storici, gli archeologi dicono che il patriarcato non è precedente, cioè non è successivo, la civiltà è successiva al patriarcato. Quindi le caverne, i cacciatori, i raccoglitori, quindi un dibattito che impiegherebbe un salto di milioni di anni e con, diciamo, chi parteciperebbe a questo dibattito dovrebbe almeno aver letto qualcosa di storico e archeologico per capire che cos'è questa parola, patriarcato. E matriarcato, altrimenti si strumentalizzano temi enormi dentro la piazza per fare la rivoluzione strumentalizzata come al solito.